Dopo il trafficato nodo degli ospedali, il tram continua la sua corsa verso Volta Barozzo, fermandosi in via Sorografi. In questo caso la banchina occuperà il centro della carreggiata, come fatto nella fermata Gozzi, per incidere il meno possibile sugli spazi ridotti della strada. Il tram inizia qui il suo percorso attraverso i rioni residenziali a sud-est del centro. Lasciata la fermata Sorografi, il convoglio arriva all'incrocio con via Forcellini, già regolato da semaforo, ed entra nel suo tratto riservato più lungo. È il percorso ciclopedonale ricavato da quello che fu l'antico tracciato della tramvia Padova-Piove di Sacco, soppressa nel 1954. Dopo oltre mezzo secolo le rotaie tornano in questo percorso, ma stavolta in modo sostenibile. Da questo spiazzo erboso, futura fermata a Forcellini, il tram correrà infatti parallelo alla pista ciclabile, fino al canale scaricatore. Ripartito da questo stop, a servizio delle tante abitazioni nei dintorni, il mezzo si dirige in linea retta fino alla fermata Sant'Antonio, l'ottava della linea, importante per la connessione con l'ospedale. Una connessione a onor del vero ancora tutta da costruire. Tra la fermata del tram ed il parcheggio privato del Nosocomio, infatti, sarà creato un percorso ciclopedonale al posto delle attuali sterpaglie. La nuova linea assolverà così la funzione, fortemente caldeggiata, di collegare i due poli cittadini della sanità. Proseguendo lungo il tracciato rettilineo, quindi il tram si avvia a raggiungere il Parco Iris, nella sua corsa verso Volta Barozzo.